allora lisa allora il tema lisa del giusto il tema del giusto naturalismo giusto lisa il tema del giusto naturalismo giusto sì volevo chiederti come ero molto interessata a chiederti che che ruolo ha kant in tutto ciò e allora allora kant è un autore che è un po' dicotomico ok lisa nel senso che da un lato lui per esempio nella critica della ragione pura sviluppa appunto il suo il suo gnosticismo cioè nel senso kant dice evidentemente lui dice teoreticamente teoreticamente che la metafisica non è una scienza che non possiamo classificare la metafisica come scienza ok quindi lui dice teoreticamente dio io non lo posso conoscere che non so effettivamente chi è che questo semplicemente dice però poi dice attenzione la critica nella critica della ragione pratica nella fondazione della metafisica dei costumi e nella metafisica dei costumi lui dice la libertà aspetta dice la morale prima di tutto per fare un po' di ordine sì in che ordine consigli di leggere kant cioè quali sono le opere da un ordine che tu consiglierai che consiglierai per capire il suo giusto naturalismo sì esatto la sua critica proprio questa cosa di dio ma secondo me allora premesso kant non critica dio o meglio kant critica dio ma non critica dio è una contraddizione in termini come critica l'esistenza di dio cioè dare per scontato che esiste kant non è esatto brava cioè lui dice non diamo per scontata l'esistenza di dio ma al contempo diciamo anche che non è detto che dio non esista ok ok sì è agnostico ok certo certo e al contempo non sappiamo che esista non sappiamo nemmeno che non esista esatto e poi dice attenzione lui dice noi nella metafisica dei costumi e un po' anche nella fondazione della metafisica dei costumi lui dice noi potremmo anche fare dei discorsi di stampo teoretico argomentativo cioè kant dice noi abbiamo la formalità tale per cui noi abbiamo una qual certa logica il problema della logica è che evidentemente la logica riguarda il fattore terreno ok cioè riguarda l'argomentazione ok evidentemente quindi lui riprende sant'anselmo dicendo è vero che noi possiamo cercare di capire dio attraverso l'argomentazione argomentazione e in certo modo di dimostrarlo attraverso l'argomentazione il limite dell'argomentazione sta che noi esprimiamo questa argomentazione nel fenomeno ok non nel noumeno cioè Kant dice l'argomentazione in sé per sé ha poco senso significarla all'interno del noumeno perché noi non siamo all'interno del noumeno non lo possiamo conoscere il noumeno esattamente per Kant lui per molti versi si inserisce all'interno della tradizione giudaico cristiana e del nel decivitate dei di Agostino se tu prendi il decivitate dei Agostino Agostino dice c'è la città celeste c'è la città terreno ok fa questa questo questo rapporto questa relazione ecco perché da questo punto di vista Kant quando fonda la sua morale dice attenzione dice nella critica è pratica e pura dice noi non possiamo dire che la metafisica sia una scienza argomentativamente io posso stilare posso esprimere una qual certa argomentazione che mi implichi anche l'esistenza di Dio ma poi da un punto di vista prettamente pratico io questa morale o meglio questa formalità non riesco a dimostrarlo da un punto di vista morale quindi Kant dice la morale è veramente libera perché evidentemente l'uomo agisce in quanto dipendente dalla libertà perché Kant dice è evidente che la libertà l'uomo ce l'ha perché perché faccio un esempio Kant anticipa da un certo punto di vista gli studi anche sull'economia cioè Kant dice il lato implicito dell'argomentazione ovvero se Kant dice argomentativamente se piove allora tiro fuori l'ombrello per non bagnarli ok questo imperativo ipotetico data una condizione finita in un tempo tal sia che l'individuo può scegliere di agire sulla base di costi benefici tale che sulla base anche dei suoi costi soggettivi lui può decidere se tirare o meno fuori l'ombrello ok ma solo se piove o no cioè capito? se piove allora prendo l'ombrello si potrebbe dire ma avrebbe senso tirare fuori l'ombrello anche se non piove magari uno per coprirsi dal sole ma c'è sempre una dinamica di mezzo e fine ok cioè se c'è il sole e scotta prendo l'ombrello che mi ripara ok quindi da questo punto di vista Kant ragiona da un punto di vista argomentativo formale per una logica fenomenica ok nell'imperativo ipotetico questo imperativo però è sempre relegato a un tempo e a un luogo ok cioè imperativo ipotetico quindi l'implicazione se allora che è aristotelica nell'organon Aristotele ha sviluppato il tema dell'implicazione cioè Aristotele ha detto se allora Kant riprende l'imperativo morale ipotetico dicendo se allora ok se voglio riposarmi allora devo dormire ok cosa sta ad indicare l'imperativo ipotetico? che non è secondo Kant un'azione morale in sé per sé puramente e del tutto perché in primo luogo si rifà a un luogo in secondo luogo si rifà a un tempo quindi a un mezzo per uno scopo va bene? per quanto riguarda invece l'imperativo categorico quello che è molto complicato da evidenziare in Kant e da dimostrare in fin dei conti e questo in certo modo definisce il suo razionalismo è che non è in nessun tempo e non è in nessun luogo e vale per tutti gli esseri razionali non per tutti gli uomini Elisa per tutti gli esseri razionali per tutti gli esseri razionali e chi è un essere razionale? evidentemente per Kant è un essere razionale colui che sa passare al vaglio le massime allora che cos'è una massima per Kant? una massima è un principio soggettivo dell'azione ok? ok l'imperativo categorico è il principio oggettivo dell'azione ok? cioè Kant dice uno deve rendersi conto deve avere un senso deve avere un'idea di quali sono le conseguenze in certo modo esatto cioè Kant dice evidentemente l'essere razionale è colui che in certo modo sa distinguere il bene dal male ovvero sia Kant dice il ruolo di Dio per quanto sia complicato da definire non può non essere presente perché? perché sebbene io dica che Dio non è una scienza e per quanto nell'argomentazione io non possa esprimermi a favore della strutturazione di Dio o a favore tantomeno della destrutturazione di Dio tuttavia in chiave morale io non posso che accettare la morale anche in senso religioso per dare imperativamente ragione all'imperativo categorico perché se no non avrebbe senso argomentare l'imperativo categorico hai capito? sì quindi Kant dice questa è un po' è la stranezza di Kant cioè Kant dice quindi questo diciamo alla fine sì no no vai 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 avanti scusi Kant dice l'imperativo categorico esiste ma è fuori dal tempo e dallo spazio ma quindi è un è un sì è una sorta di regola morale oggettiva che le persone razionali riescono a capire per tutti esatto anche gli alieni attenzione cioè per Kant se domani arrivassero degli alieni sulla terra e fossero esseri razionali cioè capissero effettivamente la modalità di approccio tale per cui esiste un passaggio dal massima cioè principio soggettivo dell'azione a imperativo categorico cioè azione che diventa morale per tutti per Kant questo costoro dovrebbero essere razionali sì ok ok e questo come cioè da qui quindi lui tira fuori il giuso naturalismo cioè dice c'è questo imperativo categorico le persone sono razionali quindi le persone razionali riescono a scoprire questo imperativo categorico e alla fine l'imperativo categorico è quello che detta o ti fa scoprire in modo diciamo un po' l'occhiano quali sono le le i diritti naturali esatto allora per Kant il libero arbitrio esiste cioè per quanto Kant dica che la metafisica non è una scienza lui dice evidentemente però senza imperativo categorico senza libertà noi non potremmo definire l'imperativo categorico cioè il principio oggettivo dell'azione ok sì però Kant dice formalmente e ritorno a quello che dicevo prima noi possiamo argomentare l'imperativo categorico però dimostrarlo sostanzialmente in tutti i termini è molto difficile perché perché in primo luogo l'azione morale deve essere universale deve andare bene per tutti cioè per me per te per l'indiano che ok cioè per tutti anche se siamo di culture diverse sì 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 e poi è Dio cioè se non esistesse Dio l'imperativo categorico in certo modo o meglio se non esistesse il no umeno inteso come non conoscibile l'imperativo categorico sarebbe smontabile per Kant è un po' questa la contraddizione di Kant sì cioè quello che che non riesco a capire se alla fine lui semplicemente sostituisca questo imperativo categorico a Dio cioè Locke a Dio lui sostituisce l'imperativo categorico ma in pratica come dire allora Kant dice questo perché per molti versi non solo teoreticamente dato che stiamo parlando di approccio morale ne parlo moralmente perché teoreticamente avrebbe poco senso ora ma Hume cioè Hume ha detto che la morale è soggettiva ok sì cioè Hume dice se tu prendi i principi della morale di Hume lui dice la morale è soggettiva perché c'è sempre un rapporto tra come dire il tema della del senso autenticamente rapportabile alla virtù al vizio individuale e poi in certo modo ok alla legge ok quindi Hume dice che cos'è la via di mezzo è la proprietà ok quindi Hume dice attraverso la proprietà noi possiamo capire ciò che deve fare o meno lo Stato ok e quindi Hume dice evidentemente evidentemente già che noi non possiamo dare troppa rilevanza alla fede secondo Hume se tu prendi la storia della religione di Hume Hume dice la religione si capisce che è più o meno umana ok perché perché siamo passati da situazioni di stampo politeista situazioni di stampo monoteista con vicissitudini tali che evidentemente l'uomo ha creduto più o meno sempre nella storia entità soprannaturali ok però la morale evidentemente è un qualcosa che poi sta nel soggetto perché deve decidere lui ok a Kant evidentemente questa cosa non andava troppo bene ok perché certo perché Hume stila una morale sostanzialmente soggettiva cioè dà rilevanza totalmente all'individuo e non è un caso che il grande iniziatore di questo preconcetto o meglio di questo concetto sia John Locke cioè Locke dice ecco perché Locke è importante ed è importante leggere il saggio sull'intelletto umano perché allora tutta la disamina che fa Kant nella critica della ragion pratica nella fondazione della metafisica dei costumi della metafisica dei costumi per dare rilevanza al tema della libertà giusto naturalista si rifà quello che dice Locke cioè Locke nei saggi sull'intelletto nel saggio sull'intelletto umano dice per far sì che ci sia contratto o meglio un contratto all'interno dello stato di natura tale che passiamo allo stato civile noi dobbiamo avere dei concetti dobbiamo avere delle idee ok ma senza l'esperienza sensibile cioè senza il fatto che l'uomo non possa evidentemente percepire l'individuo è percepire ok evidentemente l'individuo non avrebbe la possibilità di sviluppare il linguaggio la moneta i contratti ok quindi Locke dice è proprio per il semplice motivo che l'individuo percepisce attraverso i sensi in particolar modo che allora può sviluppare delle categorie o meglio creare delle categorizzazioni un certo tipo di linguaggio un certo tipo di formalità e da lì poi evidentemente noi arriviamo a un certo tipo di linguaggio un certo tipo di contratti e allora lì ci capiamo evidentemente per Locke l'uomo non è quando le persone dicono che l'uomo nasce come tabula rasa in Locke è sbagliato cioè in Locke l'uomo non è tabula rasa l'uomo ha i sensi ok può fare esperienza tanto che Locke dice quando attenzione molti dicono ma sì Locke dice anche quando è nella pancia della mamma no Locke dice nel saggio sull'interno ma no attenzione quando il bambino è nella pancia della mamma ok ha comunque dei sensi Locke dice sì sono sensi molto embrionali nel senso non è come un bambino che è uscito dalla pancia della mamma ok ok che entra nel mondo e che fa esperienza direttamente col mondo perché perché è nella pancia della mamma dice Locke quindi da questo punto di vista Locke era un medico attenzione sì 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 questo ok sì quindi Locke dice nella pancia della mamma poi io adesso non sono medico ma poi in realtà Locke dice nella pancia della mamma l'uomo ha un certo tipo di esperienza che è nella pancia della mamma non avverte il mondo direttamente fuori dalla pancia della mamma perché i bambini tendenzialmente piangono tutti quando escono dalla pancia della mamma no e perché escono dalla pancia della mamma e passano in un altro mondo tra virgolette no cioè passano dal mondo della pancia della mamma al mondo sensibile tra virgolette no al mondo reale e quindi hanno come dire cioè c'è un taglio netto no da questo punto di vista però Locke dice è chiaro che i sensi permangono per il semplice motivo che già ce li avevano stando nella pancia della mamma ok poi nel tempo questi portano l'uomo a fare esperienza e quindi l'uomo da questo punto di vista può evidentemente riuscire ad acquisire il linguaggio la scienza sociale cioè se tu prendi i due trattati sul governo ok lui parla della moneta cioè lui dice come nasce la moneta ok l'uomo si avvicina alla moneta perché ha dei motivi specifici eccetera eccetera e e quindi Locke dice come si arriva a Dio attenzione allora perché Kant ha bisogno di Dio sempre nelle sue perché Locke anticipa questa concezione cioè Locke dice com'è che si arriva a Dio perché c'è tutto il dibattito tra innatismo e pragmatismo o empirismo ok cioè il tema del giuso naturalismo dimmelo se non mi segui perché no no vai 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 ti seguo il tema del giuso naturalismo è un po' complicato perché perché anche Kant stesso si è dovuto trovare come John Locke a confrontarsi con gli innatisti ok Cartesio ok cioè Cartesio diceva io per sviluppare il mio metodo il metodo cartesiano ok devo avere idee chiare distinte attenzione per Cartesio le idee chiare distinte sono a livello innato cioè qual è la prima idea chiare distinta secondo Cartesio è Dio ok perché qual è la premessa di Cartesio io ho bisogno di idee chiare distinte per non avere confusione all'interno del mio metodo che è fondamentalmente un metodo più che altro di stampo matematico ok Cartesio scarta le scienze sociali perché dice che non sono chiare distinte l'economia la storia non sono chiare distinte devo scartarle perché sono fatte dagli uomini io ho bisogno della realtà e della sicurezza ok la realtà e la sicurezza Dio perché secondo Cartesio esiste perché evidentemente secondo Cartesio è un'idea innata autoevidente cioè lui dice se io penso quindi sono ok c'è sicuramente un'entità tale che è più perfetta di me perché lui dice perché io sto sviluppando il mio metodo perché io posso sicuramente sbagliare ma se io posso sbagliare c'è qualcosa sicuramente che non può sbagliare quindi Cartesio dice se io posso sbagliare perché Cartesio dice perché io sto sviluppando il mio metodo ma perché io posso sbagliare quindi se io posso sbagliare l'evidenza mi dice che c'è Dio è fantastica cioè allora è un paraculo proprio perché Cartesio dice cioè io faccio il mio metodo perché so che posso sbagliare se se no non lo farei e quindi se io posso sbagliare perché faccio il mio metodo vuol dire che esiste Dio è un paraculo un paraculo mentre e quindi la prima idea chiara e distinta per Cartesio è evidentemente Dio se no non ci sarebbe il metodo di Decartesio non ci sarebbe questo metodo il metodo di Locke invece parte da una premessa diversa cioè Locke dice ma com'è che io ho l'idea chiara e distinta di Dio se ancora non ho iniziato a ricercare evidentemente Cartesio direbbe io ho già iniziato a ricercare per il semplice motivo che so di essere imperfetto ma Locke dice ho capito ma questa imperfezione chiaramente tu non l'hai già nella tua testa se non la fai in modo esperienziale ok cioè Locke dice queste idee chiare distinte come Dio dovrebbero essere parimenti considerate nello stesso modo nello stesso tempo nelle stesse condizioni per tutti gli uomini allo stesso tempo allo stesso modo sempre ok ma non è così non è possibile perché per il semplice motivo che le esperienze sono soggettive ok quindi Locke dice se le esperienze sono soggettive individuali è l'uomo che deve capire evidentemente la sua contraddizione quindi Locke dice evidentemente già che Cartesio pensa che la sua sia un'idea innata in realtà lo capisce perché sta facendo esperienza di questa idea giusto giusto perché se no non avrebbe senso dire cioè Cartesio dice io so che esisto cogito ergo sum e dunque so che c'è qualcosa superiore a me Locke direbbe ho capito ma tu stai facendo esperienza di questa cosa no certo e quindi tu in realtà avevi un'idea argomentativamente pragmatica della tua esperienza cioè nel senso tu stavi facendo esperienza della tua finitezza sì quindi tu hai fatto percezione e quindi tu hai sviluppato attraverso la percezione questa idea chiara e distinta giusto quindi tu da un'idea semplice partendo dai sensi tu sei riuscito poi a sviluppare un'idea complessa di cogito ergo sum ok ok quindi evidentemente abbiamo due piani totalmente diversi cioè abbiamo un piano che si fonda fondamentalmente su una premessa di stampo innatista che in realtà pretende argomentativamente di dire no io ce l'ho già nella mia testa ok in Locke invece c'è una premessa probabilmente di stampo empiricista empirista sì esatto esatto tutt'al più anche questo lo dico tra parentesi William James che sviluppa l'empirismo radicale dice non è solo il mondo che influenza me cioè non è solo l'ambiente che influenza la mia mente è anche la mente che influenza l'ambiente ok ok questo però qui il tema di Locke fonda il giusnaturalismo si fonda o meglio sul giusnaturalismo perché perché Locke dice se dato questo io facendo tante esperienze capisco che sono limitato capisco che sono finito e soprattutto capisco che evidentemente c'è sicuramente qualcosa di superiore a me perché perché il linguaggio è limitato ai termini e i termini non sono altro che che sono strutture umane di di trasmissione di comunicazione ok quindi da questo punto di vista si capisce evidentemente che sulla base delle esperienze soggettive gli uomini hanno sviluppato linguaggi diversi per capirsi ok quindi il linguaggio strumentale anche alla cultura da questo punto di vista all'ambiente alla cultura ok 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 e quindi il giusnaturalismo di Locke fonda il diritto perché perché se io faccio esperienza e quindi faccio esperienza della mia finitezza è evidente dunque che il mio patto il mio contratto che faccio grazie all'esperienza perché io capisco te e tu capisci me non è nient'altro che una derivazione dell'entità onnipotente cioè è Dio che dà questa garanzia quindi Locke si rifà alla alla tradizione giudaico-cristiana cioè il Locke vale il patto ma prima di tutto vale Dio cioè se non ci fosse Dio avrebbe poco poco sesso poco mentre mentre per Kant Kant si rifà alla tradizione giudaico-cristiana nel senso che c'è il c'è questo imperativo categorico esatto quindi si può fare un patto come ci si può capire in un certo senso sì anche ma anche anche in Kant c'è sì anche in Kant c'è un patto evidentemente ci si può capire si può entrare in contatto e attenzione nella tradizione giuso-naturalista non è allora io credo che bisogna davvero porre attenzione alla tradizione giuso-naturalista io l'altro giorno ho fatto un video su perché nell'antica Grecia non ci fosse il giuso-naturalismo in realtà il mio video è parzialmente vero secondo me non è totalmente vero perché perché vuoi che sia così o vuoi che non sia così l'innatismo è tradizionalmente di Platone ok così come il realismo è di Aristotele cioè qui bisogna davvero secondo me stare attenti nel senso che si dice che il giuso-naturalismo è nato nell'età moderna età dello Stato ma se noi facciamo la risa dei conti noi ci accorgiamo che sebbene sia vero che il giuso-naturalismo è propriamente dell'età moderna che inizia in realtà già col Medioevo in senso più preconcettualizzato ok e quindi col monoteismo noi dobbiamo sempre però entrare a patti con Platone e con Aristotele con tutta la tradizione greca per il semplice fatto che sebbene come dico anche in quel video lì le divinità fossero tante e non ci fosse una divinità che davvero dava il diritto ok perché c'erano Zeus Poseidone ade tutti questi che erano in combutta erano in rapporto erano in dicotomia erano in conflitto tra loro così come i loro figli al contempo noi dobbiamo entrare a patti con la tradizione e tra l'altro tra parentesi erano sempre però in relazione anche al filo della vita delle parche determinati così come gli uomini eccetera sì 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 è un casino sì noi dobbiamo pure entrare a patti con Platone perché perché Platone utilizza tuttavia il rapporto delle idee che scendono nel mondo sensibile quindi è come se desse giurisdizione ha la metafisica sulla pragmatica cioè Platone dice proprio perché io ho delle idee che io posso avere o meglio posso avere e com'è che i romani invece avevano questa idea del diritto cioè loro avevano l'idea del diritto collegato alla terra giusto allora i romani e se tu avevi la terra allora avevi anche una serie di diritti ma com'è che cambia allora in realtà il diritto romano da un punto di vista filosofico in realtà allora i romani c'è da dire che avevano sviluppato ad un certo punto un diritto un diritto di fatto giurisprudenziale cioè erano entrati fondamentalmente ah di casi tra virgolette sì esatto avevano un diritto che si avevano un diritto pubblico e un diritto privato ok che era poi legato anche al tema dei contratti era legato al tema anche della disposizione dei beni eccetera non che questo non ci fosse nell'antica Grecia il problema dell'antica Grecia è che allora prima di tutti gli antigreci non hanno mai davvero avuto una unificazione giuridica ok cioè la cultura giuridica se tu andavi Atene-Sparta Argo-Corinto bisogna vedere il diritto perché il diritto certo completamente ah mentre tu dici che a Roma c'è stata chiaramente più centralizzazione sì è come sì c'era un centro che diffondeva mentre alle polis erano le città-stato che facevano il cazzo che gli pare non è un caso che da questo punto di vista questo lo dico per gli ascoltatori eccetera se tu prendi il diritto spartano o meglio l'organizzazione politica spartana noi vediamo che evidentemente l'organizzazione politica spartana si basava su un'oligarchia con gli spartiati con la gerusia con gli efori eccetera però attenzione questa cosa sta ufficialmente in piedi almeno fino a che arrivano i romani ok perché perché appena c'è la conquista romana della grecia ok questa organizzazione politica e questo diritto degli uguali gli spartiati termina o meglio sia viene messo un governatore romano che cappeggia su di loro quindi indirettamente c'è sempre un po' tutta questa diatriba questo rapporto eccetera però poi c'è la romanizzazione che fa che fa sì e quindi c'è tutto il cioè non è un caso che i romani pongano lì il loro governatore ci sono le province romane quindi ogni provincia è legata a Roma ogni provincia fa parte di Roma e attenzione però i romani hanno avuto periodi storici tra loro mutevoli e diversi perché perché aspettate che devo caricare il computer sono messo a scarica perché perché cioè il diritto romano è un diritto che non è sempre stato uguale cioè nel senso l'età arcaica romana che in verità non aveva ancora la Grecia non aveva ancora l'Egitto per esempio era molto diversa cioè era basata sulle divinità poi abbiamo quindi il superamento dell'età monarchica abbiamo l'età repubblicana eccetera i romani evidentemente nell'età repubblicana si espandono bisogna anche considerare per esempio anche il conflitto che ebbero con i cartaginesi ok quindi l'espansione romana anche in Africa eccetera poi a un certo punto quindi la struttura repubblicana con il senato eccetera i consoli no ok quindi questo era il potere poi a un certo punto chi è che arriva nel 31 a.C. quando Ottaviano prende il potere evidentemente il diritto muta perché si fonda su un diritto più legato all'imperatore ok quindi il diritto romano è storicamente sempre comunque anche relegato da un punto di vista anche direi filosofico al rapporto con con la storia ok e questo è poi il problema di Kant Elisa cioè operativo categorico cosa certo bene non lo so se ho risposto a te secondo me qui ho fatto più una una più un esegesi storico però penso che se tu ritagli dei pezzi per dei tuoi short o cose del genere hai spiegato molto molto bene secondo me alcune cose quindi sì sì mi confonde Kant non lo so non non riesco bene a capire secondo me allora come mai è così importante sinceramente Kant è un po' allora un po' tanto secondo me razionalista allora è come Kelsen ma diverso cioè Kelsen ha un razionalismo della validità del diritto gerarchia cioè c'è l'organo superiore che dà validità al resto e il resto prende validità il carabiniere non deve interessarsi alla morale deve interessarsi alla validità esatto deve eseguire sì sì esatto cioè per molti versi la struttura di Kelsen può diventare facilmente totalitaria nel senso in realtà è sbagliato sì 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 cioè è sbagliato perché in Kelsen c'è una precisa modulazione del diritto e una precisa strutturazione tale che c'è una validità che proprio si struttura a organi quindi è anche sbagliato parlare di totalitarismo per il semplice motivo che se un organo non dà validità all'altro quindi c'è sempre cioè ci sono sempre fermi no ok però al contempo se tu togli la morale perché Kelsen è quello che vuole fare vuole togliere la morale vuole togliere la storia anche per alcuni versi ok tu 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 dici al carabiniere se l'organo sopra di te ti dà la possibilità di fare questo tu puoi farlo ok quindi cosa dice Eichmann tu puoi fare questo perché ti dà la validità Eichmann no no non ho morale io non penso alla morale lasciamo perdere quella roba lì lo fai no no giustifica giustifica Hitler chiaro sì e praticamente sì perché se e praticamente è come allora io credo che un po' la medietà di questo discorso e ti rubo gli ultimi ma c'è quindi secondo te cioè scusami Kant e Kelsen alla fine quello che cercano di fare è collegare diritto con buono ok praticamente sì sì Kant attraverso la morale morale soprattutto attraverso la morale certo il diritto di Kant è multiforme attenzione cioè se tu prendi Kant se tu prendi anche la adesso non mi ricordo il titolo preciso del libro ma si si è la cos'è la dottrina della metafisica del diritto comunque sono studi sul diritto ci sono tanti diritti in Kant cioè c'è il giuso naturalismo però poi c'è anche il diritto dello Stato ci sono diversi diritti ok ok quindi complicato ok c'è anche un certo tipo di diritto internazionale no che poi si rifà la pace per pedo sì mentre in Kelsen sì c'è c'è una volontà in entrambi di universalizzare tutto cioè tutto partendo da uno con la il problema poi di Kant è sempre quello però che la premessa è che è l'individuo ok cioè Kant dice ok che è imperativo categorico per tutti ma è l'individuo che se lo deve chiedere quindi c'è libertà individuale ok Kelsen invece razionalizzazione del diritto togliendo la morale togliendo la storia la cosa che in entrambi torna molto poco è il tema propriamente della storia cioè l'imperativo categorico è fuori dal tempo e non vale sì 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 certo e lo stesso per Kelsen poi però se guardiamo il diritto da questo punto di vista Cicerone viene incontro perché Cicerone già aveva capito il realismo del diritto cioè i contratti per esempio sì e le norme che cambiano sì 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 è la giurisprudenza essenzialmente sì 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 anche il tema penso perché Hayek decidi tanto esatto esatto anche il tema del rapporto tra legge di fatto e legge e legge pratica cioè una legge funziona quando è seguita può essere una legge di fatto ma può non essere seguita e quindi sì sì esatto e quindi non diventa sì sì non entra adesso non mi ricordo come si dice però esatto se una legge sta lì viene fatta ma nessuno la rispetta non è una legge in un certo senso ma è la stessa paura di Cicerone cioè perché Cicerone ha paura di Cesare Elisa perché e qui ci si rifà un po' alla critica Kant perché Cicerone ha paura di Cesare perché perché ha paura che il diritto o meglio la pretesa attenzione Bruno Leoni Bruno Leoni dice la pretesa è quando c'è un'alta probabilità che un'azione venga fatta ok Cicerone ha paura che ci sia un'alta pretesa poi di Giulio Cesare di essere consentito come dittatore certo ok ristrutturando un po' il versore di Leoni ovviamente perché poi e quindi questa cosa sta cercare un video singolo quindi lui ha paura che la repubblica venga destrutturata da un punto di vista dei costumi realismo giuridico ok il tema del contratto il tema del rapporto ha paura che ci sia un uomo che prenda il potere dopo la campagna in Gallia perché aveva il controllo dell'esercito Cicerone aveva allora Giulio Cesare aveva il controllo pratico dell'esercito Cicerone non era un idealista che andava lì no 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 Cicerone era molto pratico Cicerone dice Cesare è riuscito ad avere il consenso dell'esercito Cesare ha il controllo di gran parte dell'esercito Cesare ha una grande armata Cesare è molto potente Cesare può cambiare il diritto certo che lo può cambiare anche come implicitamente può entrare in Roma può modificare il diritto può destrutturare la repubblica può abbatterla certo che può perché ha le forze per farlo ha il potere ha la pretesa questo vuol dire evidentemente che Cicerone non era aveva paura come Hegel dello spirito non è che Hegel aveva paura dello spirito ma Hegel è molto più trascendentale Cicerone è pratico dice proprio perché io mi baso su queste premesse che allora so che la pretesa di Cesare è importante e bisogna stare attenti e attenzione Pompeo non ha la forza di Cesare non ce l'ha o meglio Pompeo può battere Cesare ma deve svigliarsi deve muoversi e quindi da questo punto di vista in Cicerone c'è anche proprio il tema anche di un certo tipo di movimento dell'azione cioè in Cicerone quando anche lì parla del diritto c'è il tema del dovere del buon romano cioè il buon romano cosa che deve fare deve stare legato a Roma che cos'è Roma eccetera eccetera e quindi e quindi Cicerone è realista cioè Cicerone si rende conto che a un certo punto le cose possono decollare o collassare sulla base degli avvenimenti che stanno lì ma è evidente che bisogna vedere chi ha potere cioè bisogna vedere chi ha potere sì e vedere Cicerone ha potere ma infatti se tu prendi anche la storia cioè Marco Antonio credeva di diventare successore di Cesare mentre in realtà si è visto rapportato a un ragazzo che si chiamava Ottaviano Augusto pensava che fosse stupido il ragazzino ma il ragazzino non era stupido cioè evidentemente Ottaviano non era un generale non sapeva comandare un esercito ma era abbastanza intelligente da utilizzare Agrippa per poi sconfiggerlo quindi Agrippa era un generale il suo generale quindi evidentemente e evidentemente Marco Antonio era così stupido da fidarsi a Cleopatra e innamorarsi di lei per perdere tutto ok quindi da questo punto di vista ci sono sempre dei rapporti tra secondo me per criticare un po' Kant Kant costumi storia e relazioni umane sì cosa ne pensi? Ha senso Ha senso ma non lo so puoi criticarmi e magari sto sbagliando tutto probabilmente cioè sicuramente no 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 non lo so non ho la minima idea però ha senso alla fine io credo che poi quindi la tradizione giuso naturalista che implica Dio veda delle delle modificazioni e delle delle critiche attraverso il tema del realismo giuridico e del rapporto tra gli uomini cioè per quanto il giuso naturalismo sia usato poi bisogna vedere cosa fanno gli esseri umani cioè come gestiscono il potere e allora è chiaro che la libertà è nata per molti versi in occidente questo secondo me cioè la libertà intesa come libertà individuale concezione ok poi sì anche la democrazia è nata in occidente molto diversa da quella che abbiamo oggi eccetera però poi evidentemente bisogna vedere anche lì la storia la storia perché poi da un punto di vista realista ok ci sono stati dei casi in cui c'è stato un mutamento ok c'è stato un mutamento sulla base di alcuni individui che hanno preso determinate decisioni e non è che tutto fosse poi da buttare via cioè io ho fatto un video in cui dico Alessandro Magno è stato un grande conquistatore realisticamente certo perché la Grecia aveva perso aveva perso le sue credenziali di egemonia dal punto di vista di tutto e Alessandro sono nati macedoni Alessandro Magno da giovane è riuscito a mantenere il potere con con la sua forza e con la sua intelligenza ok e quindi per quanto fosse un dominatore lui ha importato anche in Grecia se vogliamo anche l'ideale del cosmopolitismo che già c'era questo c'è cioè nel senso ecco secondo me per quanto Kant per alcuni versi sia importante c'è sempre però da evidenziare il rapporto tra teoria e pratica cioè per quanto uno studia filosofia eccetera secondo me poi deve evidenziare anche il fatto che ci sono sempre delle cose pratiche cioè la filosofia da questo punto di vista deve essere utilizzata anche per riflettere sulle vicissitudini pratiche perché perché ragionare sullo spirito ragionare sulle classi secondo me non è abbastanza in realtà per chiarire ciò che avviene cioè la storia è la storia degli esseri umani praticamente ok cosa ne pensi dai di cosa ne pensi sì c'è nel senso no ripeto non penso cioè non ne ho idea non ne ho idea è la prima volta che le sento queste cose quindi ma ci sta però in senso Kant chi è per me Kant ok cioè Kant Kant boh nel senso allora Kant per quanto no no non vorrei devo andare adesso ma no ma ci sta secondo me Kant è sempre meglio di Hegel sì sì non lo so questi filosofi continentali un po' è continentale è un filosofo continentale Hegel sì non lo so rimangono sempre le figure abbastanza misteri oscure diciamo sì però cioè secondo me io tipo cioè questo discorso che ho fatto un po' anche cioè bisogna secondo me entrarci ancora di più in questi perché secondo me non si capiscono mai abbastanza cioè bisogna proprio entrarci ancora meglio nel senso che cioè non so bisogna entrarci perché sono tipi di di movimenti e di tradizioni è ovvio che comunque cioè un conto è il pensiero di un filosofo un conto è anche la storia ok certo cioè per molti versi noi siamo un po' la conseguenza della guerra del Peloponneso perché perché la tradizione che noi leggiamo è quella platonico aristotelica che si fonda sulle basi della guerra del Peloponneso noi in realtà siamo legati anche alla tradizione romana che ha solide basi in Cicerone quindi noi siamo legati vuoi o non vuoi anche e questi qua invece questi continentali a me sembra che vogliono fare un po' tipo a pezzi tutta questa cosa qua perché loro hanno la loro idea che si è vero in parte razionalista e in un certo senso i problemi sono difficili però cerchiamo di risolverli nel modo più semplice quindi costruendo diciamo una nuova etica o comunque dando dei punti di riferimento però è tutto molto razionalista costruttivista no non lo so ecco perché Lisa il termine liberalismo ha poco significato cioè mi spiego io mi definisco liberale magari sì però cioè mi spiego cioè sì ci sta definirsi liberale però ha poco significato perché il termine liberalismo a mio parere si rifà una tradizione che vuole concettualizzare le cose però poi bisogna vedere caso per caso cioè bisogna vedere un attimo cosa sta succedendo e evidenziare cioè non generalizzare il pragmatismo il pragmatismo cioè i pragmatici sono quelli che vedono caso per caso allora secondo me non bisogna generalizzare ok cioè nel senso per quanto sia complicato non generalizzare bisogna sempre cercare di non generalizzare perché perché per alcuni versi se ci pensi secondo me Kant e Kelsen per esempio generalizzano ok certo cioè secondo me la tradizione che generalizza è più la tradizione razionalista che quella pragmatica certo cioè secondo me abbiamo una prossima volta questa 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 parentesi che devo proprio andare però non lo so cioè sì sono d'accordo però secondo me la tradizione molto velocemente secondo me la tradizione pragmatica è anche lei molto razionalista per alcuni sì poi alcuni versi sì cioè a parte che sì non so se se ne esca bene cioè se se ne esca da questo ragionamento perché la tradizione pragmatica ti dice caso per caso ma razionalmente poi siamo d'accordo che non cerca di stabilire verità universali questo sì esatto parte da alcune sì ha certe basi di stampo razionale questo sì ha certe basi di stampo razionale è così cioè perché dico caso cioè se tu prendi ad esempio le scienze la loro specializzazione nel senso ci dicono le scienze diverse ci dicono che non è necessariamente vero che i filosofi che hanno avessero ragione cioè il lato pragmatico ci ha poi dimostrato anche con le rivoluzioni industriali eccetera che evidentemente la specializzazione scientifica può aiutare di molto e anzi la filosofia da questo punto di vista ne ha bisogno così come anche lo studio dell'economia eccetera della specializzazione nei settori specifici perché poi bisogna vedere il tecnico a mio parere che naturalmente ci deve essere dibattito che ti dice poi cosa funziona e cosa no nel senso bisogna cercare sempre di evidenzare un rapporto di causa ed effetto cioè evidentemente vedere quali sono le cause che hanno portato alla cultura faccio un esempio che hanno portato alla cultura dell'impero romano economiche giuridiche sociali eccetera cioè quello che voglio dire è che evidentemente c'è sempre un lato multiforme multiforme ok multiforme e quindi evidentemente cioè come dire quello che direbbe un po' Perelman cioè nel senso quando si parla all'uditorio bisogna poi evidenziare all'uditorio che evidentemente bisogna sapere di non sapere abbastanza cioè la tradizione socratica nel senso che evidentemente bisogna poi considerare un po' la storia un po' l'economia un po' il diritto un po' la scienza politica la filosofia un po' tutto cioè per fare un puzzle nel senso nel senso che poi in realtà già oggi nelle stesse scienze ci sono tra loro diverse branche quindi io credo che poi bisogna anche mettersi considerare che Kant Locke questi qua Hume vivevano tutti in un tempo dove comunque sia non c'era tutta questa specializzazione quindi evidente che a un certo punto molte cose perché le dicevano i filosofi perché perché non c'è la specializzazione quindi cosa ne pensi di quello che sto dicendo sei d'accordo o non sei d'accordo sì 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 nel senso che ha tutto un certo tipo di sofisticatezza non ci si poteva arrivare perché semplicemente se uno faceva il filosofo non faceva il filosofo della micro 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 cosa c'è una tradizione del lavoro quindi in senso perché dicono no ma perché i filosofi no no i filosofi cioè perché aristotele si poteva permettere di fare l'economista di fare il politico la filosofia politica di fare di fare il biologo sì sì ok che fosse un pochino più sopra cioè un po' più intelligente magari dei suoi contemporanei va bene però però poi evidentemente perché perché si poteva permettere perché non c'era tutta questa specializzazione evidentemente c'è un senso sì poi si non dico che uno oggi comunque può però no no certo però diciamo che uno finisce per fare così tanto tempo con la stessa roba che è più difficile che che spazi in un certo senso sì sì certo sì sì devi salutarmi allora ci sentiamo ciao Lisa ciao